carissimi amici del canale youtube dentro la notizia stiamo vivendo probabilmente l'inizio del peggior periodo di tutta la storia umana eppure abbiamo molti motivi per essere ottimisti pensate per esempio a quante verità si sono svelate in questi ultimi mesi e a quante si stanno rivelando verità di vitale importanza per esempio abbiamo compreso alcune delle losche trame delle diaboliche elite per ultima il great reset che la cupola che domina il mondo ha fretta di attuare ad ogni costo il grande reset a quanto dichiarano i potenti che si radunano annualmente a davos al world economic forum significherà l'esproprio di tutti i beni materiali che possediamo dai conti corrente agli immobili inoltre sempre più persone stanno comprendendo che i media mainstream essendo al soldo di questi potenti ci mentono e ci stanno conducendo come un grigio verso i loro obiettivi e aver compreso che non ci possiamo fidare ciecamente di quello che dicono in tv per esempio deve essere considerato un motivo di gioia perché potrebbe salvarci la vita e che dire della censura che si fa sempre più forte è segno che la cupola teme il risveglio dei popoli addirittura i social media come facebook twitter instagram hanno sospeso l'account del presidente degli stati uniti rendiamoci conto di quanto potere hanno ma anche di quanto temono la verità un'altra cosa importante che si è svelata chiaramente ai nostri occhi è che quotidianamente media politici religioni ci terrorizzano al fine di farci accettare i loro rimedi salutari almeno questo vorrebbero farci credere ma siccome il risveglio sta avvenendo in molte persone gli accoliti dell'elita hanno bisogno di obbligare le persone ad accettare determinati trattamenti sanitari che altrimenti rifiuterebbero chiunque sostiene questa narrativa a danno della salute e della vita delle persone si rivela pienamente come loro complice e vedete conoscere queste verità aver smascherato tante trame persone dovrebbe essere motivo di gioia dobbiamo anche essere consapevoli che le diaboliche elite ci vogliono impauriti e pessimisti così che le nostre difese immunitarie e la nostra energia vitale si indeboliscono e diveniamo una facile preda per loro non commettiamo questo errore siamo vicini alla fine del dominio della cupola siatene certi siamo vicini a un punto di svolta ma di questo parleremo un'altra volta ora vi riporto una lettera dell'arcivescovo carlo maria viganò che trovate riportata in lingua inglese da marco tosatti in questa lettera l'ecclesiastico riporta quanto affermato dalla leader di nation in action maria strollo zac che viganò chiama maria fe parker la zac parla di prove notevoli delle presunte dobbiamo dire così frodi elettorali americane che vedrebbero il ruolo determinante dell'italia ovviamente questa è la versione di questa donna e prima di mettere dei giudizi definitivi aspettiamo di vedere le prove e siamo anche curiosi di vedere se ci saranno degli eventi che confermeranno o meno queste gravissime accuse ecco però cosa scrive l'arcivescovo nel video maria fe z parker di nation in action parla di un impiegato stefano serafini ufficiale del servizio estero per oltre 20 anni che si sarebbe ritirato il prima delle elezioni presidenziali usa per essere sicuro di non perdere la pensione come invece è accaduto ad agenti dell'fbi che hanno tradito gli stati uniti nel 2016 stefano serafini si è messo d'accordo con il generale claudio graziano dal 2017 presidente del comitato militare dell'unione europea graziano è nel board di leonardo spa appaltatore del ministero della difesa leonardo avrebbe usato il proprio uplink satellitare militare per caricare il software di gestione del voto statunitense e trasferirlo per modificare i risultati elettorali spostando i voti da trump a biden finora si sapeva che questo era avvenuto ma non c'erano prove inconfutabili su chi ne fosse l'autore da dove questa operazione fosse partita e con quali modalità fosse stata compiuta chi ha organizzato questa frode credeva di essere stato molto astuto e che fosse quasi impossibile scoprirla questo piano è stato concepito da obama con l'aiuto dell'ex primo ministro renzi i servizi segreti hanno dato al gruppo che indaga sulla frode elettorale le intercettazioni le foto le telefonate e anche foto di un agente della cia coinvolto in questa operazione alcune foto sono anche state pubblicate su internet suscitando il panico nei membri del governo italiano che ha sostituito in tutta fretta alcuni personaggi strategici alla vigilia di natale maria fe z parker era la festa di trump in florida a mara lago e in quel frangente ha avuto tempo di parlare con trump e gli ha anticipato che avrebbe ricevuto una fida vita di una persona che gli avrebbe dato tutte le prove di questa vicenda che coinvolge l'italia ha detto a trump che avrebbe dato ogni prova possibile addirittura dell'informatore che ha firmato la fida vita e che è colui che ha finito di caricare tutti i dati nel satellite leonardo dopo quel momento si è incontrata altre due volte con trump che era stupefatto e ha preso su un pezzo di carta appunti sui nomi che maria stava facendo trump teme che si ripeta tutto come il 2016 con il famoso rush a gate ma ci sono prove anche per il 2016 i vi comprese le dazioni di danaro in contanti 400 milioni di dollari usate da obama per modificare le elezioni 2016 li ha inviati con 14 bancali in italia ma è tutto tracciato si fa riferimento anche alla famosa cena del 2016 a washington di obama e renzi a questo punto parla di conte e conferma il suo coinvolgimento in questa operazione maria fe z parker aggiunge che gli usa non possono ovviamente invadere l'italia ma hanno i loro assets già predisposti è una guerra sotterranea dice che questa operazione enorme in italia sta costando tantissimo e che i media mainstream devono a questo punto prendere una netta posizione parla di un giudice in italia senza fare il nome che sta lavorando a queste indagini e sta terminando il fascicolo che comprenderà anche lo spy gate del 2016 richiede che queste informazioni siano condivise ovunque perché devono essere diffuse chiede protezione per lei e suo marito conferma di aver avuto diversi incontri con il generale flynn e con sydney powell rimasti tutti senza parole per le prove addotte a supporto delle accuse l'autrice del video è maria fe z parker da quanto si dice nel video i servizi segreti italiani e leonardo spa sono coinvolti nella creazione degli algoritmi usati per la frode elettorale ordita dal deep state contro trump caro amico comprenderà che si tratta di una cosa di una gravità inaudita che deve assolutamente essere denunciata e fatta conoscere al grande pubblico prima che sia insabbiata si tratta di una notizia importantissima che conferma sospetti risalenti ormai a più di un anno fa ovviamente la sua diffusione porrà fine alle aspirazioni di renzi a farsi dare la delega sui servizi segreti e con ogni probabilità dovrebbe condurre anche a un'indagine su conte tutto questo permetterebbe di evitare l'ipotesi di un conte ter o di un governo tecnico con draghi come presidente del consiglio confido che lei vorrà dare ampio risalto alla notizia carlo maria viganò arcivescovo prima di concludere volevo ringraziare gli amici della bife international una delle innumerevoli piccole e medie aziende del made in italy di successo che consiglia prendac 2 il primo integratore che associa in un'unica soluzione quattro vitamine fondamentali vitamina d3 a k 2 e vitamina c queste vitamine insieme contribuiscono al corretto funzionamento del sistema immunitario e all'attivazione del ciclo del calcio che è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare la bife quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione grazie ancora del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro roby